Buonasera e benvenuti a Extra, lo spazio quotidiano di approfondimento di Telepavia. Ospite di questa sera, Roberto Gabba. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Roberto Gabba è esponente a livello locale di Nuovo Nord. Nuovo Nord è un movimento, la cui nascita è anche piuttosto recente, che si propone nell'idea di andare a recuperare alcuni dei valori che erano quelli fondativi della Lega Nord, delle origini, in particolare quelli teorizzati da Gianfranco Miglio. Ma do subito la parola a lei per spiegare che cos'è questo movimento. Ma niente, siamo un movimento che è stato creato proprio perché hanno creato il federalismo fiscale, d'accordo, in linea di massima, però purtroppo il vero federalismo è stato abbandonato da quella battaglia che aveva fatto la Lega Nord all'inizio, della quale io ne feci parte, tra l'altro negli anni 90, nei primi anni 90 e è molto importante perché comunque il federalismo vorrebbe dire teniamo le tasse qui, facciamo vivere i nostri qui, non come adesso che è stato forviato il federalismo negli anni, da quando era nata l'idea della Lega Nord, del federalismo delle tre macro regioni, di tutto questo grande progetto, si è perso nel tempo. E quindi, proprio per questa ragione, non essendoci più nessuno che porta avanti questa bandiera del federalismo vero e proprio, hanno pensato, perché io sono stato poi chiamato successivamente, proprio perché è ex leghista, e sono stato tirato dentro e quindi apporto avanti questa bandiera. Un movimento che geograficamente è nato a lui, no? Sì, geograficamente è nato sempre nel Varesotto, a Luino, da quelle parti lì, è abbastanza radicato comunque in tutto il centro nord Italia, arriviamo fino a Bologna, abbiamo già diverse nostre postazioni, chiamiamole così, sedi, mini sedi, come meglio dir si voglia, per cui io sono stato contattato dal Tiziano Zucchelli, che è il leader di questo movimento e attualmente speriamo di poter fare qualcosa, ecco, proprio per rinverdire la gente. Questo movimento si chiamava originariamente Nuova Lega Nord, poi adesso ha preso il nome Nuovo Nord. Allora, originariamente era stato chiamato proprio Nuova Lega Nord, perché voleva riprendere le idee federaliste del professor Gianfranco Miglio, che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere e di portare in giro lui e la moglie all'epoca, e poi per tante ragioni, anche perché inizialmente poteva andare bene il nome Nuova Lega Nord, perché si riprendeva il discorso che la Lega Nord all'epoca era federalista, quindi voleva fare il discorso delle tre macro regioni, voleva fare un discorso bello corposo. Successivamente, avendolo abbandonato, noi abbiamo deciso di prendere, loro hanno deciso, tra l'altro all'inizio, di prendere Nuova Lega Nord proprio per questa ragione, perché è nuova, cioè si prende l'idea vecchia, ma un nuovo sistema. Poi invece abbiamo optato, non certo per certe cose che erano scritte sul giornale da parte del segretario provinciale, eccetera, eccetera, dell'attuale Lega Nord, ma proprio perché non vogliamo che se dovessimo arrivare alle prossime elezioni con un corposo numero di voti, non vogliamo che veniamo tacciati come coloro che hanno rubato, approfittando di un nome o cosa del genere. Quindi abbiamo tolto il nome, l'abbiamo cambiato da Nuova Lega Nord a Nuovo Nord. Prima di arrivare all'attualità, perché ci sono già stati due accenni che mi piacerebbe approfondire, però una domanda la devo fare sul passato e anche sul suo passato personale, perché lei è stato consigliere comunale a Vigevano nella giunta Rubini, parliamo del 93. Parliamo del 93-94, quel periodo lì. La giunta Rubini che fu una delle prime giunte leghiste d'Italia che si insediò a Vigevano. Sempre in quegli anni lei aveva avuto occasione, come accennava prima, di stare a contatto con personaggi importanti della Lega di quel tempo. Che cosa l'aveva affascinato di quel progetto? Allora, mi aveva affascinato il progetto del potere all'epoca giovane, adesso non nascondo di aver 50 anni, non è che sono vecchio per l'amor di Dio, però già se andiamo indietro negli anni 90 andiamo indietro di 20 anni in meno. Quindi mi affascinava il discorso di poter aiutare, rendere vivibile il futuro mio e dei miei eventuali figli, che poi ne è venuto uno, per cui poter contare nel cambiamento, essere a disposizione per cambiare qualcosa, nel bene naturalmente di tutto e di tutti. Questo è quello che mi ha spinto. Poi è logico che quando sei nell'onda, quando hai a che fare con certi personaggi, perché comunque io ho avuto il piacere e la fortuna di entrare in questo sistema nel momento in cui c'era una necessità particolare. Quindi divenni, lavorai in portineria centralino e anche come autista, occasionalmente quando era necessario che magari era via la scorta principale, cose di questo genere, sia per l'onorevole Umberto Bossi, sia per il sindaco di Milano Formentini, sia per Roberto Maroni, per Irene Pivetti, per Gianfranco Miglio, che lo portai a casa, lui e la sua signora, più di una volta in quel di Como dove abitavano. Ecco, e quindi ebbe il piacere e la fortuna di unire una passione che era nata in quel momento con delle persone fantastiche intorno, con le quali potevo durante il viaggio, durante i momenti di pausa, colloquiare e avere un bagaglio in più per potermi formare interiormente a livello politico. Tornando all'oggi, lei prima ha citato due temi, uno quello delle tre macro-regioni, in particolare la macro-regione del nord perché è il territorio in cui ci troviamo e l'altro invece è quello di un federalismo fiscale inteso però in una maniera diversa da quella con cui è applicata oggi, cioè che le tasse devono rimanere nei luoghi dove si pagano. Questi però sono due degli elementi che inseriti nel programma elettorale di Roberto Maroni e hanno portato lo stesso Maroni a vincere in Lombardia. Quindi le chiedo un giudizio sull'operato di Maroni in questo momento. Ma obiettivamente, certo, ma io penso una cosa. Le idee sono tutte belle. Adesso io non vorrei sembrare quello che si tira la zappa sui piedi o fa demagogia spicciola e gratuita. Le idee sono tutte belle. Roberto all'epoca, adesso non so se lui si ricorda o cose di questo genere, eravamo amici, si parlava di più e del meno perché ho avuto il piacere di stare con lui. Però siamo sempre lì. Le idee di uno non sono poi le idee di tutti. Cioè la Lega Nord all'epoca aveva delle idee stupende che io ho appoggiato e abbiamo portato avanti insieme con delle battaglie e delle lotte democratiche, tutto quello che vuoi. Poi anche adesso fanno determinate battaglie, ma poi sono degli uomini che cambiano il sistema. Cioè Roberto lavorerà bene, non lo metto in dubbio. Lui non è, alcune volte però, non è lui il responsabile della situazione. E' come se io sono direttore di un'azienda, capo di un'azienda e ho sotto di me, perché non ho il dono dell'obiguità, non ho, e quindi delego, c'è da fare questo, c'è da fare quello, c'è da fare quell'altro. E poi le persone sotto, con la mia idea però, rovinano l'impasto sul quale si sta lavorando. E quindi purtroppo alcune volte può essere successo, può essere successo che ci sono stati degli errori nel cammino. Però l'idea è giusta, però siamo sempre lì, bisogna essere incisivi, cioè impopolari, spesso e sovente purtroppo, e incisivi. Cioè hai quell'idea, la porti avanti, costi quel che costi, perché se io ho l'idea di un federalismo fiscale, tra virgolette, dove se tu paghi 100, 80 rimangono qui e 20 se ne vanno a Roma, non puoi scendere poi a compromessi dove 80 se ne vanno a Roma, quelli che arrivano non si sa, e poi quelli che tornano non si sa e tu devi gestire la situazione. Ribaltiamola, ma dobbiamo essere fermi, decisi, per andare fino in fondo ad avere il risultato, perché se poi ci accontentiamo è con la fine che stiamo facendo a livello locale e a livello nazionale. Oltre al federalismo fiscale, quali sono secondo lei i temi su cui si dovrebbe lavorare a livello di Nord Italia, diciamo? Sicuramente il federalismo fiscale, come abbiamo detto, poi sicuramente il sociale, la sanità, che comunque già funziona discretamente bene per quanto mi riguarda e per come ho potuto constatarne io, e la sicurezza. Abbiamo delle situazioni di sicurezza dove purtroppo in linea di massima nelle grandi città lo vedi poco, perché nelle grandi città tipo Milano, sì, manca magari in alcuni punti la sicurezza, però la paura della gente la vedi poco. Nelle città come vigevano la vedi, quindi, e non siamo pochi, siamo sempre 65.000, 70.000 abitanti, quindi, però tu vedi molto spesso e sovente in certe città come vigevano nel Nord, sono città che hanno paura di muoversi, che hai il coprifuoco, alla sera alle 9, 9 e mezza esci e dici dove sono gli zombie, cioè ti ritrovi da solo in giro. Quindi, ecco, questi sono comunque sicuramente il discorso fiscale e così, e poi abbiamo il discorso sicurezza sociale, perché siamo arrivati in un momento in cui la gente veramente non arriva più alla fine del mese. Abbiamo dei seri problemi. Io voglio aprire una parentesi veloce. Anni fa, andiamo indietro di 3-4 anni fa, ho avuto dei seri problemi sociali e personali, poi ho avuto la fortuna di avere degli amici che mi hanno dato una mano, ma prima io ho avuto dei seri problemi sociali e personali e andavo a mangiare al pane quotidiano a Milano, signori, e al pane quotidiano a Milano. Non ci sono solo gli stranieri estracomunitari, è pieno di italiani, ancora adesso. Quindi cerchiamo di dare una mano agli italiani. Io non sono per abbattere i barconi, no, c'è da aiutare tutti, però cerchiamo di aiutare tutti, prima gli italiani, di qualunque razza essi siano, perché se abbiamo uno straniero in Italia che lavora, paga le tasse, che è regolarmente in Italia, mi va bene, però ecco che da lì è il famoso cane che si morde la coda. Perché? Perché se tu sei irregolare, fai i tuoi sforzi, vai avanti, vai alla carica, vai di qui socialmente parlando e riesci a ottenere gli aiuti. Se tu sei uno straniero irregolare, ecco che abbiamo problemi, che questo dove va a dormire, cosa fa per mangiare, abbiamo la microcriminalità che purtroppo... abbiamo la sicurezza che non riesce a stare dietro a tutti questi... cioè è un discorso troppo grosso effettivamente, non sono certo io che ho la panacea di trovare le soluzioni, però ecco, questo è quello che io vedo, al di là del discorso fiscale, che è un discorso importante per poter... perché poi con i soldi che rimangono qui puoi sistemare le strane, puoi fare tante cose, però abbiamo anche gli altri aspetti molto importanti, sono sicuramente il sociale, sicuramente la sicurezza delle persone. Dobbiamo fermarci per la pubblicità, torniamo fra poco con Roberto Gabba di Nuovo Nord. Tornati in studio con Extra, stiamo parlando di un progetto, quello di Nuovo Nord, che va alla ricerca di quelli che erano i valori con cui la Lega Nord era stata fondata e cerca di proporli in chiave attuale, perché secondo alcune persone, fra cui Roberto Gabba che è in studio con noi e che è un rappresentante di Nuovo Nord a livello locale, c'è stato un po' di deviazione da quello che era il tracciato segnato. Un flash perché stiamo ad approssimarsi delle elezioni amministrative e anche Nuovo Nord ha scelto di andare in campo, soprattutto a Vigevano. Sì, a Vigevano saremo presenti come Nuovo Nord, appoggeremo il candidato a sindaco Andrea Di Pietro, perché abbiamo ritenuto il ragazzo, perché è un giovane, abbiamo ritenuto il ragazzo capace in politica da parecchi anni, io lo conosco da molti anni e riteniamo l'unica persona che ha veramente, nel bene o nel male, lavorato e fatto qualcosa per gli altri. Adesso però l'ha fatto all'opposizione, cioè lavorando fuori dalle righe, in comune ma fuori dalle righe come consigliere. Quindi adesso e ora ci daremo da fare per appoggiare questo ragazzo e spingerlo, veramente spingerlo, verso questo traguardo di sindaco, papabile sindaco di Vigevano, dove con lui e tutti coloro che lavoreranno con lui, tra cui noi, riuscire a creare una Vigevano più vivibile. E tra l'altro avrete anche un confronto con la Lega attuale. Certo, indubbiamente, indubbiamente. Sicuramente loro, conoscendomi, aspettano loro me al Varco e io aspetto loro al Varco, è logico, è una cosa reciproca. C'è una cosa che rimprovera l'attuale amministrazione? Oddio. Una in particolare? Sì, sì. Sembra una stupidaggine. Io so che forse mi arrocco sulle stupidaggini. Però io dico, il sindaco Sala, Andrea, che conosco, e che eravamo negli scranni comunali insieme all'epoca, non capisco perché alcune volte mi saluto, alcune volte non mi saluto, ma va bene lo stesso, vivo comunque, non ho problemi. Io, l'unica cosa che ho da dire è, mi dispiace solo che la giunta, Andrea Sala e la sua giunta, abbiano, forse anche giustamente, tolto il cibo a dei bambini per le mense perché ci sono state quelle problematiche che io non conosco, per l'amor di Dio, e quindi dico forse anche giustamente. Ma non accetto quello che ha fatto dopo, cioè non accetto che lui abbia pagato di tasca sua una multa per una ciotola e non abbia pagato di tasca sua insieme alla giunta e a quello che... la mensa per dei bambini, ok? Perché purtroppo non dobbiamo dimenticarci che i bambini sono il motore del futuro e non c'entrano niente se ci sono dei genitori che hanno dei problemi voluti o non voluti. I bambini devono essere aiutati, sono veramente... cioè i bambini sono la cosa più bella che ci sia al mondo. Non dobbiamo fargli pagare le colpe di certe situazioni sociali, personali e qual dir si voglia di famiglia. La ciotola, per qualcuno magari non l'avesse capito, era la ciotola per abbeverare i cani che un barista di Vigia avevano messo fuori dal locale e poi era stato multato dai vigili. Il sindaco e la giunta hanno pagato di tasca loro. In 30 secondi, per chiudere, un commento che volevo chiedere sull'attuale leader della Lega Nord Salvini e soprattutto del fatto che lui ha un progetto di Lega che si estende oltre al Nord. È andato ad inaugurare una sede a Roma, è andato in Sicilia. Ma io se non ricordo male, all'epoca quando Umberto Bossi, diciamo, era ancora il leader in discusso della Lega Nord, sempre col sistema progetto federalista del professor Gianfranco Miglio, avevamo aperto la Lega Sud, la Lega Centro, la Lega Sud, eravamo stati in Sardegna, avevamo aperto, ma sempre Lega, sempre con la stessa idea federalista, sempre con la stessa idea delle tre macro-regioni. Non vedo adesso il vota per Salvini o comunque la lista, è una persona stupenda Salvini, non voglio dire che non lo sia, ma esula la persona dal progetto. Anche in questo caso ha forviato, ha storpiato il progetto federalista, perché lì poi è voler diventare un partito nazionale senza più un'identità, l'identità della Lega era il federalismo, l'hanno abbandonato, con Bossi avevamo fatto all'epoca, ripeto, Lega Nord, Lega Sud, adesso dov'è la Lega? C'è Salvini, non c'è la Lega. Salvini porta avanti la Lega, ma non è più la Lega Nord, è Salvini e si deve presentare come Salvini, perché non ha le potenzialità dell'Umberto Bossi dell'epoca e si è rappresentato come Lega. Aveva creato appunto questa identità. Ecco, poi vabbè, su tutte le varie altre cose anche lui ha preso l'impronta, tra virgolette, dell'Umberto, che saluto caldamente perché è veramente una cosa in particolare di amicizia, che spara alto per arrivare basso, ok? E la stessa cosa la faceva Umberto all'epoca. Grazie a Roberto Gabba, abbiamo conosciuto anche questo movimento, Nuovo Nord, sicuramente ci ritroveremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Grazie a voi per l'attenzione e arrivederci. Arrivederci, buonasera. Grazie a tutti.